Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia e in studio Nicola Giannattasio. Siena e fino al 14 settembre scambio di carreggiata tra Poggi Bonzi e Colle Valdelsa Sud in direzione Siena. Sulla tangenziale di Siena chiusi per lavori gli svincoli di Siena Nord e acqua calda. Sulla statale un'aurelia riduzione di carreggiata per lavori tra l'incrocio per la A12 e Rosignano Marittimo in direzione Genova. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!